Da Arezzo a Monte San Savino, vediamo il secondo servizio. Giornata arcobalena a Monte San Savino con l'assessore Erika Rampini. Sì, abbiamo anche noi aderito a questo evento regionale, di una giornata, un aperitivo in tutte le città toscane, grazie anche alla partecipazione della Proloquo e poi come vedremo anche dei commercianti del Stade del Vino. È un momento di ritrovo anche per i savinesi e per i turisti. Con una bellissima location e soprattutto questa bellissima loggia dei mercanti del San Savino. Sì, abbiamo voluto sfruttare quelle che sono il nostro patrimonio, le nostre bellezze e quindi qual è il miglior luogo che le loggie dei mercanti. Iniziamo subito questa scoperta, cosa offre Monte San Savino per questa giornata indimenticabile? Abbiamo organizzato un aperitivo, una mostra vintage con i J7. Al centro sociale di Cia Peroni sono presentato un libro che parlava degli anni 50 e 60 attraverso le interviste e saranno aperti monumenti, sinagoga, torre civica e Santa Chiara. Fino alle 21, un'apertura straordinaria per consentire ai savinesi di scoprire le proprie bellezze che magari non le conoscono, ai turisti di vedere cose che normalmente sono chiuse. Grazie.